Ciao a tutti, questo è un nuovo video e in questo video volevo farvi un tutorial di make up per Capodanno. Spero vi piaccia, fatemi sapere giù nei commenti. Allora, iniziamo subito. Questo make up l'avevo già fatto e sì, spero di farlo di nuovo bene come la prima volta, ma non si sa mai. Allora, inizio subito applicando le ciglia finte. Allora, io uso queste di qua. Ho preso su Aliexpress. Sono queste. Però io le ho tagliate perché sono troppo lunghe per il mio occhio. E le applico. Allora, inizio subito. Ok. Ok. Metto già un po' di mascare e poi partiamo con gli occhi. Prima ho fatto... Cioè, sto preparando il sushi per domani, no? Per Capodanno. E prima ho fatto il riso. E praticamente ne ho fatto troppo. Eh già. Proprio così. Proprio così. Allora. Allora, prendo un po' di scotch. Mi raccomando, fate così. Quando prendete un po' di scotch per fare l'ombretto o l'eyeliner bello dritto, non prendete lo scotch e mettetevelo subito. Perché mi è già successo che una ragazza mi ha detto così. Prima ve lo mettete sulla mano, lasciate che la colla se ne vada via e poi lo mettete. Iniziamo. Prima con l'ombretto nella sfumatura e uso la palettina di Kylie. Se volete vi faccio gli swatch, fatemeli sapere. Fatemi sapere se volete gli swatch. Perché scrive tantissimo, è bellissimo. Vi consiglio. Io adesso mi sono dimenticato di mettere il primer perché sono troppo sbadata. Però ricordatevi che a capodanno, se volete fare un trucco bello strong, questi ho visto che non vanno nemmeno via. Quindi va bene, però se volete fare un trucco bello strong, mi raccomando mettetevi il primer sotto per farlo durare tutta la sera. Per fare i video con il telefono è che sembra che qui sia bianca, ma invece ho il colore. Ho l'ombretto anche là. Tanto alla fine vi metto la foto del trucco finito. Ok. Sfumatura fatta. Prendo un altro po' di scuro. Allora, fino adesso... Sono un po' così, non mi ricordo mai di farvi vedere il... Fino adesso ho preso questo. Ho preso questo. Questo è un rosso tipo terra bruciata, come si può dire. Questo è un marroncino sempre sul rossiccio. E adesso ho preso questo che è un violetta scuro. Viola che vira però sul marrone scuro. Per fare un po' di... Più scuro qua sull'angolo. Fatemi sapere se anche Natale vi è andato bene. Non si sa mai. Ehm... Se appunto Natale vi è andato bene. Cosa avete fatto a Natale. E tutte queste cosine qua. Sono curiosa. Molto curiosa. Adesso prendo questa violetta. Molto bello. E lo metto al centro. Poi cosa vi posso dire? Auguri per il nuovo anno. Spero che vada tutto bene per il nuovo anno. Ehm... E niente dai. Sono felice che... Sta passando questo 2016. E spero che il 2017 non sia come il 2016. Lo spero vivamente. Ehm... Ehm... Ho messo il rosetto qua davanti. Tutti sui toni del... Borgogna. E del viola. Che poi... Ho una rabbia perché... Avevo ordinato... Le... Come si chiamano le... 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 lì ma ovviamente la sfiga deve stare con me sì che io sto facendo questo trucco vedete vabbè fai questo trucco perché stai a casa tanto invece io ho voluto fare questo trucco proprio quando devo uscire è già proprio così ho messo questo bianco sempre la stessa cosa ho messo questo bianco e un po di questo che è un rosa con i brillantini sull'arcata sopraccigliare come sembra che c'è uno stacco ma in realtà non è così credetemi abbiate fede in me poi ho fatto essetista per qualcosa spero adesso metto l'eyeliner anzi prima di sbagliare perché io non sono capace di mettere l'eyeliner prendo questo prendo un po di nero e faccio una linetta poi intanto non si vede tantissimo perché c'è tutto l'ombretto scuro e vado attenzione togliamo vediamo come sono questo viene sempre bene questo ma in questa volta è venuto per favore consigliatemi un eyeliner decente perché non ce la faccio più con questo io ho quello della debora che avevo preso perché ho sentito michelinia che diceva che era buono perché appunto anche lei ha lo stesso problema mio che mi lacrimano tanto gli occhi e speravo che con questo non non si togliesse quando lacrime ma invece si toglie comunque quindi per favore dovete consigliarmi un eyeliner decente per favore super waterproof ma veramente waterproof però adesso vado con le sopracciglia vado prima con il nero dopo mi faccio vedere anche come mi vesto per questa sera perché a capodanno non ne ho la più palida idea però si che stasera non dobbiamo fare niente dobbiamo andare a fare la spesa per capodanno però bisogna sempre essere belle perché io all'inizio non mi truccavo mai le sopracciglia è un oltraggio lo so ma è la verità però ho visto che fa veramente tanta differenza ma sì beh e oltre al lip kit avevo ordinato sempre dall'iexpress il brown pomade in teoria si chiama di anastasia e nemmeno quello mi è arrivato le due cose che volevo non mi sono arrivate però vabbè non so non so cosa fare o le poste si sono incasinate boh 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 allora mettiamo dentro dentro una matita bianca ok e fuori sfumo ancora un po' del rosso che avevo messo qua quindi prendo un pennellino così e vado a prendere un po' di rosso quello di prima e un po' di marroncino e sotto mascara sotto tanto questo mi va anche a sporcare un po' quindi sembra che ho messo anche la matita nera la base allora adesso ho iniziato a fare così praticamente prima metto il fondotinta e dopo il correttore uso questo di qua prendo la beauty blender sempre il stesso correttore dell'altra volta prendo quello più aranciato questo cipria solita sempre questa cipria e mentre prendo la palettina sempre la stessa di london revolution make up revolution london prendo questo quello più scuro e quest'altro e quell'altro qua qua il brutto è che non si capisce mai se fai uguale da per di qua o no perché non hai mai le stesse luminosità e vabbè bisogna andare intuito insomma e questo video in teoria ve lo carico domani che così è già il 31 oggi è venerdì e quindi vi faccio gli auguri se non ve li ho già fatti non mi ricordo beh vi faccio gli auguri sia per natale che è passato che per capodanno che sta per venire per il nuovo anno e spero che lo passiate molto bene e ditemi dove andate fatemi sapere giù nei commenti che io sono curiosa di sapere dove cosa fate e se volete sapere anche come faccio io il sushi fatemi sapere che sono che magari vi faccio un video ricetta non so fatemi sapere se se vi ispira e niente allora adesso tolgo via la cipria sto mettendo la matita di essence lip liner 08 red blush se ve lo stato chiedendo io non mi metto la matita fuori dalle labbra perché non mi piace non mi vedo bene mettiamo un po di illuminante che non fa mai male vediamo questo mi piace tantissimo è sempre della palette ed ecco qui quindi finito ovviamente i capelli non so come me li farò io volevo farmi tipo ricci però vediamo dai bene questo è il trucco finito spero che vi piaccia e fatemi sapere e fatemi sapere giù nei commenti se questo trucco vi è piaciuto se questo trucco vi è piaciuto e vi lascio il link su all'info box del tutorial che ho fatto per le unghie e niente spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un bel like ciao ciao